Buonasera, quanto tempo! Ero sparita dalla circolazione ma sono ancora qui Allora ragazze, qua la svendita continua I cappelli sono quasi tutti finiti Non mi chiedete i baschetti perché sono finiti Allora, abbiamo ancora qualcosa No, questo no perché lo devo togliere per una mia amica E ci siamo, va bene Allora, abbiamo in sconto Vi faccio un riepilogo e un riassunto della situazione La linea di Alea è finita quasi tutto Ci abbiamo ancora la crema viso pelli miste e grasse 5 euro, burro di karité 7 euro E sfogliante viso alla mandorla 4 euro Il rimpolpante ciglia, ragazze, queste lo dovete prendere Perché a parte che l'ho messo 4 euro scontato E poi guardate il volume della ciglia e della sopracciglia Io me lo metto tutte le sere Questo che cosa fate? Lo mettete, lasciate assorbire È una cosa eccezionale perché con l'olio di ricido e la vitamina C Rimpolpa Poi abbiamo ancora qualcosa di scrub corpo a 4 euro Il siero, questa è una cosa bestiale Questo siero praticamente tira Tira tutto, c'è collagene, acido ialluronico e aloe vera È una cosa micidiale I doccia tutti a 2,50 euro e 4 euro la crema corpo Sapone mani a 2 euro e il sapone intimo sempre a 2 euro Poi abbiamo ancora zanza perché, voi sapete, ci stanno sfondate a zanzare quest'anno, non si lavano più Giustamente fa 40 gradi Ieri stavamo con la manica corta, oggi sto ancora con la manica corta Ci abbiamo ancora qualcosa di nubba, vedete che è là dietro Ancora i rossetti, mille baci, questi che si fissano Ho messo tutto a 10 euro, ragazzi venite da prendere Poi, importante, crema e mani, la florentina Vi ricordo la florentina, bio vegan di Firenze Tutte cose molto molto particolari Crema, mani, 5 euro Poi abbiamo sempre della florentina, sono rimasti i saponi, questi riequilibranti al bergamotto, sempre vegan Il sapone all'alloe, 3,50 euro Il sapone solido, me ne sono rimasti 2 E poi c'è tutta la linea, sia bio forte che silium per capelli I prezzi variano Shampoo e maschera, silium, viene 10 euro La fantastica spazzola, questa alzale dell'Himalaya che leva il crespo È una bomba, l'ho presa pure io È veramente micidiale, scioglie i capelli e elimina il crespo Non mi ho guardato adesso perché soppena da una giornataccia E voglio sapere Poi abbiamo ancora, a me mi sono rimasti soltanto 2 sieri Che questa cosa l'avete capita quest'anno Perché l'autobronzante ce l'abbiamo avuto anche l'anno scorso Quest'anno l'avete capito perché non ci va di mettere il fondotinta perché fa caldo Quindi voi mettete due goccine di autobronzante E tira fuori la melanina e in più è un siero Quindi scontato da 36 viene 23 euro, due goccine e vi illuminate È una cosa fantastica Tutte le nube scontate Queste hanno tutto il sotto Questo addirittura è il librettino che ha i doppi colori Vedete? Non so se riuscite a vederlo Da lì, vedete? Ogni cosa ha il doppio colore È una cosa fantastica A me sta scontata da 65 e 45 La piccolina 20 euro con tutto il sotto La grande 45, questa è un megacubo E poi abbiamo sempre i pad in offerta 10 euro Questi in bambù, in fibra riutilizzabile Li lavate, è antibatterico, antiallergico Lo lavate, vi struccate con il latte detergente, l'acqua micellare Lo sciacquate lavandolo con la saponetta Li diventa bianco, lo riutilizzate Acqua micellare al tè bianco 13 euro Latte detergente al tè bianco 18 euro E i fantastici sieri Tutti scontati a 25 Quelli con la maschera a 28 Vi ricordo che solo la maschera in siricone viene 16 euro Poi abbiamo tutta la legna co Quello che è rimasto, qualche base, qualche top coat Qualche base matte Questa me la mettono anche gli uomini E poi abbiamo questa base losty Poi abbiamo tutti i trattamenti Unghie secche fragili, unghie molli Il leva smalto, l'asciuga smalto La crema antimacchia, il trattamento antimacchia E tutta la linea di ischia Sempre con lo sconticino Voi sapete che ischia è erba La sconto ma non tantissimo Perché poi tra l'altro c'è una mystery shop Perché mi vengono a controllare E anche se sto annunciando la chiusura del negozio Non vogliono che vindo sotto posto Quindi voi mantenete il segreto Se venite vi faccio sconto Però non vi posso dire così in radiovisione In youtube quanto viene Poi abbiamo l'happy body Questa è una cosa fantastica La crema bomba Lei è un'anticellulite Effetto lifting, tensore Che è buonissima E anche lei ha lo sconticino Da 43 vi viene 38 euro E tutti i sieri Pelle secca, pelle mista, pelle impura La promo con la crema e l'antirughe 70 euro Il siero da 48 o 30 euro Tutte le bustine che ci dobbiamo fare in questo momento Che c'è il momento delle castagne Che cadono i capelli C'è anche il trattamento anticadute in offerta Poi sto affinando la linea questa di Amodeo Fabulose Rose Paciuli eccetera eccetera Anche qua c'è lo sconto tutto 70 euro E malinca Mi sono rimaste queste poche matitelle Tutte a 2 euro 3 euro i matitoni 3 euro il waterproof Gli ombretti 3 euro Correttori 4 euro Tutti i rossetti a 5 euro Gli ombretti questi glitter a 4 euro E oggi metterò lo sconto anche su Laila Attenzione Gli smalti c'è il 3x2 Se venite vi faccio lo scontone Musgo se dovete fare qualche regalina Qualche ometto Qualche ragazzotto Che vuole qualcosa di nicchia Cioè lo sconto ha 50 euro il 100 ml di Musgo Invece che 80 E quello da 110 viene 70 Che è il Black Edition Voi lo sapete Eba ce l'abbiamo tutta qua Vi annuncio che Essenza è finita C'ho solo la 50 ml E la crema corpo Che eccola qua Non ho capito perché me l'hanno messa qui Va bene Eccola qua E l'ultimo pezzetto di crema corpo E senza Poi c'ho qualcosa anche di Vabbè i profumi ci sono tutti Acqua La classica Classica donna Classica donna a 50 ml La crema Tutto quanto C'è lo sconticino anche qua E c'ho ancora qualcosa di bon parfumé Poca roba Ma ancora c'è Poi abbiamo gli sconti Su tutta la parte degli accessori E vi ricordo che Ancora ho due mascherini Col magliarino Che sono blu A 13 euro Questi che si allungano The better the longer E tutti i Sirena A 7 euro Allora ragazze Io vi aspetto Anche se vi volete Anticipare i regalini di Natale Venite perché le cousine Stanno finendo Come vedete C'ho gli scaffali Vuoti Venerdì e sabato Sono state giornate Di shopping Di borse E abbiamo quasi finito Le borse Ah vi volevo dire Che ancora c'è Qualche cappellino E qualcosa di carino Di queste borzettine Megacolor Queste qui Che vanno quest'anno Che sono simpaticissime E gli ombrelli Gli ombrelli Abbiamo quasi tutti Gli ombrelli A 15 euro Anche questi di Frida Che sono bellissimi I tascabili Gli unici che vengono Un po' di più Sono loro Questo viene 35 euro Ma un bicolor doppio I Sirena Sempre 15 euro Quelli con l'apri e chiudi Vengono 25 euro Scontati Se non erro Sì Me ne è rimasto uno Tra l'altro Che è lui Quelli da golf Vengono un po' di più Ma ce n'ho solo due E poi ci abbiamo Anche Gli ombrellini Questi qua Che hanno il contenitore Fantastico E anche loro Sono C'hanno il contenitore Antiguoccia E anche loro Sono scontati Allora RD Profumeria Centro No Ho sbagliato RD Profumeria Via Duga degli Abruzzi Niente C'ho avuto un attimo Dei rewind Via Duga degli Abruzzi 74A 74B Vi aspetto